Aspetto. Ci sono un'ampia varietà di colori e dimensioni. I cani sono ben fatti. Il formato è quadrato. L'altezza algarrese va dai 18 ai 55 centimetri. Il corpo è molto compatto, con un torace ben sviluppato. Il pelo è soffice, ma non nasconde il contorno del cane. Il pelo di guardia è spesso, ruvido e il sottopelo è molto morbido. Colori riconosciuti dal Club FCI. Nero con sottopelo e pelle neri, senza macchie bianche, o di altro tipo. Marrone, marrone scuro. Zona grigia. Bianco, nessuna sfumatura gialla. Arancio, arancio zibellino. Altri colori. Crema, zibellino crema, nero focato e colorato, particolore, dove il colore principale del mantello è bianco. Macchie nere, marroni, grigie o arancioni dovrebbero essere distribuite su tutto il corpo. Il Keshond è una razza di cane da servizio i cui antenati, sono molto probabilmente i cani da pastore del Medioevo. È stato allevato dall'allevatore Germán Wolfspitz come compagno e guardiano. Questi cani bonari, coraggiosi ed energici possono adattarsi alla vita in un ambiente urbano, ma si sentono meglio fuori città. Non sopportano la solitudine, hanno costantemente bisogno di comunicare con una persona. Lo scopo originale della razza, è informare il proprietario dell'approccio di estranei abbaiando. Pertanto, i pomerani attendono a reagire con un forte abbaiare a suoni estranei, estranei per strada e abbaiare in uno stato di paura. Punti salienti e fatti interessanti. Il Keshond è stato riconosciuto dall'AKC nel 1930, ed è la sua 85esima razza. Keshond è apparso in innumerevoli fotografie e vignette relative alla lotta politica nei Paesi Bassi a causa della sua affiliazione politica. Keshond è di origine artica o forse subartica. Prima che il cane venisse coinvolto in politica, il Keshond era fondamentalmente un cane chiatta che serviva su numerose navi sul Reno. Storia della razza. Keshond prende il nome da Cornelis de Giselaer, pronunciato Giselaari in olandese moderno, il capo della ribellione contro la Casa d'Orange. Il cane divenne il simbolo dei ribelli, e quando Ouse of Orange tornò al potere, la razza quasi scomparve. Keshond è una parola composta. Kese è il soprannome di Cornelius e Ond è la parola olandese per cane. Nei Paesi Bassi, Keshond è un termine per spitz tedesco, che li comprende tutti, da giocattolo o miniatura, pomerania, a volspitz. Le uniche differenze tra lo spitz tedesco sono la colorazione, e le raccomandazioni sulla taglia. C'è dibattito sull'origine della razza, molti riferimenti inglesi indicano che è Keshond, poiché sappiamo che proviene dai Paesi Bassi. Secondo la FCI, invece, la razza è citata come parte della famiglia degli spitz tedeschi, originari della Germania insieme al Pomerania, spitz tedesco giocattolo o nano, e al cane eschimo americano, spitz tedesco piccolo o standard. Lo spitz tedesco tedesco è stato fondato nel 1899. Lo standard tedesco fu rivisto nel 1901 per indicare il caratteristico colore che conosciamo oggi, grigio-argento con punta nera. Alla fine del XIX secolo, il British Kennel Club mostrava un paffuto Pomerania, uno spitz tedesco bianco, e, molto probabilmente, uno spitz tedesco standard. Il British Kennel Club nel 1915 non riconobbe più i grassi Pomerania. Negli anni venti, la baronessa Van Ardenbroek si interessò alla razza e iniziò a svilupparla di nuovo. Il Nederlandse Keshond Club è stato fondato nel 1924. L'inglese Duke Barge Dog Club è stato fondato nel 1925 dalla signora Winfield Digby e ammesso al British Kennel Club nel 1926 quando la razza e il club sono stati ribattezzati Keshond. Si ritiene che Karl Inderer abbia portato il suo allevamento, da lui fondato in Germania nel 1922, in America nel 1923. Il suo campione tedesco Wolfspitz seguì nel 1926. A quel tempo, meno di dieci anni dopo la prima guerra mondiale. La Germania non era amata in Inghilterra e in America, e Wolfspitz-Keshond non è stato riconosciuto dalla KC. Di conseguenza, Inderer ha dovuto registrare ogni cucciolo nato negli Stati Uniti con il suo club in Germania. Indipendentemente da ciò, si è unito al club del Maryland, e ha partecipato a spettacoli locali. Inderer scriveva regolarmente al club AKC, inclusa la sede di New York, per promuovere la razza. Durante un viaggio a New York in viaggio verso la Germania nel 1930, Inderer visitò gli uffici del club AKC e presentò Keshond, il suo campione, al presidente dell'AKC dottore De Mond, che accettò immediatamente di iniziare il processo di riconoscimento, con alcune riserve, incluso il cambio del nome di Keshond e chiedendo a Inderer di restituire tutti i dati rilevanti dalla Germania. Inderer ha anche tradotto lo standard tedesco in inglese per l'AKC. Keshond fu accettato per la registrazione dall'AKC nel 1930. Nonostante l'intensa attività di lobbying, la FCI non accettò il Keshond come razza separata, poiché considerava Vospizze Keshond identici. Nel 1997, lo Spitzkla tedesco ha aggiornato il suo standard per includere il Keshond tipicamente più piccolo preferito in America, e in altri paesi di lingua inglese. Ciò ha notevolmente ampliato il pool genetico e per la prima volta ha unificato lo standard a livello internazionale. Keshond, allevato da generazioni come cane da compagnia, diventa facilmente un amorevole membro della famiglia. A causa della storia, e della natura amichevole della razza, Keshond viene talvolta definito l'olandese sorridente. Tratti caratteriali distintivi. Keshond è generalmente molto giocoso, con riflessi pronti e una forte capacità di salto. Sono primurosi, desiderosi di compiacere e imparano molto velocemente, il che significa che imparano rapidamente anche ciò che le persone non avrebbero insegnato. In effetti, questo cane brillante e robusto si presta così tanto a un addestramento adeguato che è stato addestrato con successo a fungere da cane guida per non vedenti, solo la loro piccola dimensione ha impedito il loro più ampio uso in questo ruolo. Amano i bambini, e sono ottimi cani di famiglia, preferendo stare vicino alla loro gente quando possibile. Di solito vanno d'accordo con altri cani, e si godranno una buona caccia in giardino. I Keshond sono altamente intuitivi ed empatici, e sono spesso usati come cani da terapia. In particolare, almeno un Keshond, Tikva, era a Ground Zero dopo gli attacchi dell'11 settembre per aiutare i soccorritori a calmare le persone. La razza tende a diventare particolarmente affettuosa nei confronti dei suoi proprietari, più della maggior parte delle altre razze. Se il loro padrone è assente o in un'altra stanza dietro una porta chiusa, possono sedersi, aspettando che il loro padrone riappaia, anche se ci sono altre persone nelle vicinanze. Molti Keshond sono chiamati l'ombra del proprietario o cani con velcro. Sono noti per il loro abbaiare forte e caratteristico. Per secoli il Keshond è stato molto popolare come cane da guardia sulle chiatte dei canali nei Paesi Bassi e nell'Europa centrale. Questo tratto è evidente fino ad oggi, e sono cani vigili che avvisano i loro proprietari di eventuali nuovi visitatori. Nonostante sia rumoroso e diffidente, Keshond non è aggressivo nei confronti dei visitatori. Di solito salutano affettuosamente i visitatori, quando vengono ricevuti dalla loro famiglia. Sfortunatamente, l'abbaiare può essere un problema se non gestito correttamente. Keshond, che sono tenuti in cortile, e non possono stare con la loro gente, spesso diventano fastidiosi e abbaiano. Manutenzione e cura. Keshond prospererà con cibo per cani di qualità. Come la maggior parte delle razze settentrionali, prosperano anche con una dieta a basso contenuto di carboidrati. Qualsiasi dieta dovrebbe essere appropriata per l'età del cane. Alcuni cani tendono ad essere in sovrappeso, quindi tieni d'occhio l'apporto calorico e il livello di peso del tuo cane. I dolcetti possono essere un importante aiuto per l'esercizio, ma troppi possono causare obesità. Verifica con il tuo veterinario, se hai dubbi sul peso, o sulla dieta del tuo cane. L'acqua pulita e fresca dovrebbe essere sempre nella ciotola. Keshond richiede una manutenzione regolare. Di solito è sufficiente spazzolare il pelo una volta alla settimana. Ciò manterrà il sottopelo pulito e ridurrà al minimo lo spargimento. I proprietari di animali domestici possono lavarsi i denti settimanalmente o portare i loro cani dal veterinario. L'esposizione canina viene lavata pochi giorni prima dell'esposizione. Keshond si adatta a molte condizioni. Storicamente, hanno avuto case che vanno da fattorie con molto spazio per correre a chiatte con poco spazio per muoversi. Hanno davvero bisogno di un regolare esercizio fisico e si divertono a passare il tempo con le loro famiglie. Una corsa quotidiana gratuita o una piacevole passeggiata li avvantaggerà fisicamente e mentalmente, e saranno anche felici di salire sul divano con te mentre leggi il giornale o guardi la tv. È importante sapere di Keshond che saranno felici se trascorri del tempo con loro. Salute. Nel complesso, il Keshond è una razza sana e attiva. Il Keshond Club of America raccomanda test sanitari specifici per ogni Keshond per aiutare gli allevatori a identificare eventuali problemi di salute. Questi test includono i raggi X per la displasia dell'anca e del gomito, l'esame per la lusazione della rotula, gli esami oculistici e lo screening genetico per l'iperparatiroidismo primario. Al momento dell'acquisto di un cucciolo, l'acquirente è obbligato a richiedere i risultati del test ai genitori del cucciolo, e discuterne con l'allevatore. Prezzo e come acquistare correttamente. I cuccioli di cane Keshond hanno un prezzo compreso tra 800 dollari e 1200 dollari. Linea di fondo. Lo Spitz tedesco è una razza di cane. Cane da compagnia. Gli Spitz tedeschi sono discendenti del Peat Do dell'età della pietra, e del successivo Pile Spitz. Sono considerati la razza più antica dell'Europa centrale, e gli antenati di molte altre razze. La razza è riconosciuta dal Club FCI. Lo Spitz tedesco ha una buona salute, un carattere equilibrato, è facile da mantenere, è attaccato al proprietario, ha una mente eccellente, ed è facile da destrare. Sono cani molto intelligenti, affettuosi e diligenti. Lo Spitz tedesco è considerato un grande amico e compagno. Se alleni correttamente uno Spitz, può abbaiare solo a comando. Gli Spitz tedeschi in miniatura sono inclini all'obesità. Grazie.